Inizia nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco il periodo di preparazione alla celebrazione della festa dell'Immacolata Concezione. Come di consueto nel giorno di San Gennaro verrà esposto il bozzetto del carro che negli ultimi due anni, a causa della pandemia, è rimasto irrealizzato. Ai nostri microfoni il Paragotto Giuseppe Lombardo illustra il programma degli eventi. Ben trovati alla ripresa dell'anno pastorale che inaugureremo questa sera con tutti i gruppi parrocciali nella festa della Santa Croce. Lunedì San Gennaro, nostro patrono, a sera avremo la tradizionale processione nel centro storico. Ricordo anche il percorso così ce lo aggiorniamo. Faremo via Beato Vincenzo Romano, Corso Umberto I, via Roma, via Salvatornoto e poi in piazza una preghiera di supplica al nostro patrono. Ma come tradizione il giorno di San Gennaro verrà esposto il bozzetto del carro votivo dell'Immacolata e quest'anno ricorrono proprio i 160 anni del primo carro. Ho dato già mandato alla ditta esecutrice di cominciare la realizzazione del carro sul bozzetto del professore Raffaele Di Maio. Ave Maria, Ave Maria. Sull'eventualità di poter svolgere la tradizionale processione resta però ancora un velo di incertezza. Stiamo tornando alla normalità e per cui viene costruito il carro però la certezza l'avremo qualche mese prima. Ecco, non voglio spegnere i facili entusiasmi né pensare che non si possa realizzare. Però l'ultima parola non sarà quella del parroco ma del parroco e di tutte le autorità costituite. Come facciamo sempre. C'è questa grande attesa, c'è questo desiderio, c'è la speranza di poterla fare. Però penso che una parola definitiva la potremo dare entro l'8 novembre. Allora viviamo questo tempo di attesa, di gioiosa attesa. Sabato 17 cominciamo la preparazione spirituale alla festa dell'Immacolata con la celebrazione dei dodici sabati dell'Immacolata. Con la messa delle 7.30 del mattino, 9.30 e 18.30. Buon cammino a tutti nella gioia e nella speranza verso l'8 dicembre per celebrare insieme i 160 anni del primo carro.